Le bancarelle che stanno in mezzo alla strada sono un pericolo per loro e per gli altri, gli altri siamo noi e andiamo a passeggiare la strada, anche quelle bancarelle che stanno avanti, non hanno nessun criterio di sicurezza messo in atto, spesso le vediamo con il gruppo elettrocio con le lampadine di pernescenza che stanno così con la sigaretta in mano, vicino alle macchine, vicino a qualsiasi voglia punto E, quindi io vi dico questo, quelle bancarelle voi li dovete evitare, innanzitutto non essere più dolorosi e andare a vedere cosa c'è di sopra, perché non ci stanno dei prodotti o dei giocatori, ma ci stanno dei fuochi e i fuochi sono un pericolo, quelle bancarelle li dovete evitare perché sono persone che non è che stanno là, perché si stanno guadagnando il loro il pane quotidiano, facendo una cosa legge, che spesso stanno quelle bancarelle sotto, vendono i fuochi illegali, è solo una copertura per attirare le persone, ci stanno dei fuochi e spesso sono guadagnati dei fuochi e questi qua non sono più fuochi pirotecici ragazzi, sono degli ordini esplosivi, sono delle bombe, già sto cambiando un po' il tono della voce perché queste qua non è che sono pericolose che vi fanno male, questi vi uscitano, questi sono letali, causano la morte e quando non causano la morte, mi causano dei danni permanenti e irreversibili, se prima avevo detto il gioco di legarvi l'indice al medio e provare quante voce sono riuscite a fare, queste purtroppo le conseguenze sono molto più grandi, non basta più solamente legare l'indice al medio e queste ordini, queste bombe, queste ordini esplosivi, perché vi dico che state puntate? Perché oltre a essere utilizzate durante le festività per tradizione, per costura, per schiacciare via l'anno vecchio, per augurio, questi criminali che li produrono, li produrono per scopi di malaviglia, ci fanno gli attentati, ci fanno, ci feriscono le persone, eh, quelli che vengono utilizzati per tirare ai comandati per la vostra manifestazione, gli stati, ma non è una festa, perché lo sapete bene che se tirano una bomba carpa nella partita, annullano la partita e la notte per il caso alla squadra, quindi chi usa questo materiale? Non è che lo sta facendo per festeggiare la vostra squadra, tutto al contrario, i fuochi illegali, ma illegali non è che solamente la parola che è la legge, sono illegali per questo motivo qua, perché chi li produce, chi li detiene, chi li mette in commercio, sono dei criminali, sono dei criminali che non chiamano il solo e unico scopo di inugrare, di guadagnare sulla nostra pelle, hanno solo unico scopo di fare del male a noi e agli altri, hanno solo unico scopo di creare pericolo, allarme e un sacco di altri problemi alla società dove vivono, solo per guadagnarci, quindi per questo vi dico, alle pangarelle che stanno lungo la strada, non avvicinate, perché davanti mettono magari qualche giocante o qualche fontanina, a parte che non sono autorizzate in nessun modo, l'occupazione è solo pubblica, non è un'autorizzazione per vendere quel pubblico, però spesso li usano come copertura per vendere questi tipi di pubblico, è come una batterina per segnalare, questi qua ce ne stanno in diversa misura, perché i criminali giustamente per guadagnarci sopra prendono in giro anche lo stupido di turno che se le fa comprare, perché lo stupido di turno, lo sciocco, la persona immaginata che compra questo materiale qua, che vi ho detto che sono delle bombe, degli ordini, bombe, lui pensa che si paga queste 5 euro, 10 euro, non lo so, dice a dove prende, dice vabbè, fa un voto di 100, questa la paga 20, dice fa un voto più grande, per questa è capace pure di spendere 100 euro, non lo so, 50, ma è sciocco ancora dopo, è stupido ancora 10 volte, perché il criminale che fa il criminale per guadagnarci, all'interno mette lo stesso materiale, gli stessi quantitativi, in questa pimpola, in questa grattola la differenza non è tanta, sono molto simili, solamente che qua per fare, per riempire il contenitore del corpo, ci mette, nella migliore dell'epoca si segatura, però se la vuole vendere ancora più cara, ci mette la sabbia o addirittura le pietre, e le pietre, oltre che a dare il peso e a prendere in giro lo sciocco di turno, diventano dei proiettili, delle schecce quando questo esplode, quindi, quando vedete la gente stupida, che accende questi fuochi, non avvicinatevi, perché lo sciocco si farà male a lui, e purtroppo a chi è vicino, perché purtroppo lo sciocco, lo stupido, non pensa per sé, figuratevi per gli altri, il maiale, la zappa di maiale, ha la pelle, molto più resistente della nostra, la codica, è spessa, è dura, e poi pensate, fai a chi ci cammina sopra, se pesa un paio di vittà, come è il tuo, questa pelle, per vedere un po' che cosa, i dati che procuravano questa roba, alla pelle e alla zappa, allora che abbiamo simulato, mettendo una di queste dimensioni, da 20-30 grammi di miscela esposiva, mettendola in questo modo qua, simulando la mano della persona, quando la tiene per accenderla, o no? Ragazzi, è corretta? come si viene? Penso che la tiene così, lo sciocco di tumo, no? E lo sapete la tiene così, ragazzi, perché c'ha paura, perché non è per niente coraggioso, c'ha paura, allora si aggrappa la cosa che ti chiamano, hai capito? E chi utilizza queste bome, voglio precisarla, allora, non è un tipo coraggioso, non è un tipo, un canto, non è che, ci siamo allontanati, con la telecamera che abbiamo messo, non è, senza scorda, non è, senza scorda, non è, l'operatore aveva un po' la mano che gli libera, guardate, guardate, il motor va bene, boom, guardate, non esiste, è separata, è separata, è separata, è separata, è separata, e pure l'avamo fissata bene su quel paro di legno, la zanna, l'avamo fissata bene, l'avamo fissata bene, è stata proiettata, è diventata completamente alla mano, è venuta, ti senti che la zanna di noi è staccata, ah, è una parte molto più spesa, in questo modo, vi deve indicare che, no, così la zanna di stancare, è una parte, se viene tenuto in un certo modo, le dimensioni, qualche, sale prima sopra e poi scende, dunque, il posto pure, e qua parliamo di una distanza di 30 metri in salita, quindi ciò vuol dire che se fosse stato tutto pari, avrete lanciato come minimo a 50 metri di distanza. E stiamo parlando nell'ordine di 30-45 grammi di miscena bilonectrica che ci sta dentro. Una mano vostra, una mano mia, la portaria, una mano vostra che è ancora più tenere rispetto a un adulto, non vi lascio immaginare che cosa può produrre. Grazie. 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 Grazie.